ciao ragazzi sono pingu buon halloween a tutti quanti come avete letto dal titolo oggi siamo qui in una top 25 spaventi del sottoscritto che si è preso da quando è iniziato il suo percorso su youtube che gioia vi rubo due secondi giusto per dirvi che come avete letto dall'inizio del video questa sarà le nove e mezza ci sarà il secondo speciale di alun mi raccomando non perdetelo quindi iscrivetevi al canale attivate la campanellina per non perdere appunto nessun video e seguitemi qui su instagram mi raccomando volevo solo appunto dirvi che la telecamera sarà tutta pixelata e scura per restare in tema oro giusto per avvisarvi adesso quindi spero che non vi arrabbiate e se vi arrabbiate vi vengo a cercare e vi picchio uno per uno ma parte quello allora cosa consiste questo video appunto sono 25 spaventi quindi ci faremo i primi 15 poi una piccola pausa di riflessione e poi gli ultimi 7 prima di entrare sul podio quindi dal decimo al quarto posto e appunto poi la top 3 spaventi scrivete nei commenti poi in quale posizione avreste messo i vari spaventi mi raccomando quindi soprattutto anche il podio se volevate cambiarlo in qualche maniera scrivetelo qua sotto nei commenti mi raccomando fatelo altrimenti non mi tiro il telefono e il telecomando e le cuffie erano le prime tre cose che ho trovato a mano quindi vi lascio ai primi 15 spaventi cerco di sdramatizzare ragazzi perché me la sto facendo sotto porca punta battene a fani sono riuscito a spaventarmi con la scritta a livello completato se vuole qualcuno di voi iscritti tranquillamente venire a comprare quando è pronta io ve la do tranquillamente non mi sono scassate come sempre le cuffie sono troppo scuro aiuto non mi si neanche vede potrebbe essere un problema cosa sta succedendo aiuto porca punta oddio calmi 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 perchè anche il cane sta andando via buongiorno ma baffan cu**o va buongiorno porca punta ma baffan cu**o vuoi le bollette ok pensavo che fosse la teleca che parlava dal calmi cosa sta succedendo calmi ok parte già il secondo video e allora boh primo video diciamo tensione al massimo porca punta l'ho messo in pausa vai a quel paese ma va a quel paese va a solistare spaventarmi quel video che non so vai a fare un giro vah ma che demolo oh che demonio ah quel paese in questo s***o ma vai a fare in cosa una faccia calmi io sto morendo ah c***o ragazzi o c***o c***o o c***o o c***o 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 Porca p***a! Che c***o è successo? No, calmi! Ho cliccato cosa... ci vediamo fra un seg... Come sto? Come sono messo? Ma quanto sono figo? Ma cos'è? Eh, anche il temporale fuori casa! Va bene, tutto temer horror! Aspettate un attimo, ho schippato troppo per premuto un tasto! Ragazzi... Porca p***a! Ma allora ci avete proprio la mamma p***a, voi eh? Io ve lo dico! Ok, dobbiamo trovare una via di uscita prima che il padre arri... Vito porco! Calma! Ok che... Ok... Porco demonio! Non capisco cosa sta succedendo... Sento solo rumori sottofondo... Basta! Ciao! A più che c***o, che c***o... Sì anche a te! Bござ, c***o! Ma vaffan c***o va? Siete già qui, scusate, stavo cercando come si vede i più belli del mondo, ma mi sono ricordato di esserlo già Auguri per i prossimi sette infarti per arrivare al podio Sono volate le cuffie letteralmente Che cavolo mi sta succedendo? Ma? Che cacchio è successo? Si, scassa, scassa Ma la minchia Ma che... Ciao Brutti rumori Brutti rumori PORCO È il pendolo, cos'è quel pendolo di Newton, no? ORCO DE MOGIO Mi si sono scassate le cuffie Questa è un gioco horror Non lo so Quanto volevo sapere se lo conosco Mi si sono scassate le cuffie, strano Mi si sono scassate le cuffie, strano Ma... Prosto? Porca di uomo che pinci Ma vaffan... Siete arrivati fin qui? Wow! Vuol dire che siete veramente dei maschioni Muscoli così Quindi... Io vi saluto, vi ringrazio Vi lascio agli ultimi tre spaventi Uno più bello dell'altro E niente Un bacione e ci vediamo allo speciale di questa sera Mi raccomando, non partetevelo Godetevi questi tre bellissimi spaventi Molto virilli Jam screen arrivo, sì Ok, ok, grazie Ho sbagliato il tasto, scusate Volevo mettere via il mouse Ce l'ho fregato Wow Wow Aaaaaaah Pensavo che quando ha messo il rumore dopo come di comparsa la serie pensavo fosse quello, ma vai a quel paese Oh Yokini, you pass the switches via... Oh 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 Grazie a tutti.